Benvenuti nel mio canale, siamo di nuovo con voi per le notizie da tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere informato di tali più velocemente non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Qual è il tema della serie su misura? Dove è stata girata la serie Taylor? Chi sono gli attori della serie Terzi? La serie Taylor, in cui Netflix ha riunito attori famosi, è stata rilasciata il 2 maggio. Il soggetto e gli attori della serie, che ha attirato l'attenzione fin dal primo giorno della sua trasmissione, sono meravigliati dal pubblico. Allora, qual è il soggetto della serie Taylor? Dove è stata girata la serie Taylor? Chi sono gli attori della serie Terzi? Mentre Cem Kark sedeva sulla sedia da regista della serie Terzi, Rana Mamatlolu e Bekir Baranest K. hanno scritto la sceneggiatura del film. Il primo nome della serie era Fancy Skercro e si decise di trasmetterlo su TV8. Successivamente, dopo il disaccordo tra la casa produttrice e il canale, il nome della serie è stato cambiato in Taylor e trasferito sulla piattaforma Netflix. Allora, qual è il soggetto della serie Taylor? Dove è stata girata la serie Taylor? Chi sono gli attori della serie Terzi? Ecco i dettagli. Qual è il soggetto della serie Terzi? Terzi, la nuova serie turca di Netflix, è riuscita a entrare nella top 10 fin dal primo giorno. I ruoli principali sono Satay Ulusay, che in precedenza ha recitato nella prima serie turca di Netflix, Akhan Gard. La serie Taylor racconta la storia di un famosissimo sarto, Peyami, che segue le orme di suo nonno Peyami, originario di Kars e stabilitosi a Istanbul dopo essere fuggito dal padre disabile, Mustafa. La tormentata migliore amica di Peyami, la fidanzata di Dimitri, Esvet, scappa di casa e si rifugia nella casa di Peyami e le sue strade si incrociano con una narrazione emozionante. Martedì 2 maggio è uscita la prima stagione di Terzi, trasmessa su Netflix. La serie Terzi, entrata in breve tempo nella top 10 watchlist, è composta da 7 episodi nella prima stagione. Ogni episodio della serie è di circa 40 minuti. La serie Terzi, che è stata approvata da Netflix per la sua seconda stagione, dovrebbe iniziare le riprese dei nuovi episodi in estate. Un altro nome che attira l'attenzione tanto quanto Satay Ulusay è stato l'attore Saliba Demci, che ha abilmente dato vita al personaggio di Dimitri. Il nome più sorprendente e curioso della serie Taylor è stato Sifanur Ghul, che ha dato vita al personaggio di Esvet, la fidanzata di Dimitri. Il grande attore Olgun Simsek dà vita al personaggio del padre disabile di Peyami, Mustafa. Chi sono gli attori della serie Terzi? Satay Ulusay, Peyami Weaver. Sifanur Ghul, Esvet Firuse. Saliba Demci, Dimitri. Simsek Maturo, Mustafa. Berrak Tuzunatak, Cemre. Engin Senkan, Nonno. Evoluzione Alasa. Ece Sukansuzzi Susan. Vedate Rincin, Ari. Galilea Toyon, Fagiano. Lila Gurmen, Lia. Dove è stata realizzata la serie Terzi? Le riprese della serie Terzi, in cui Satay Ulusay ha interpretato il ruolo, si sono svolte a Istanbul con Craclarelli. Cosa ne pensi della serie Taylor? Cosa ne pensi di questo video? Non dimenticare di dirci i tuoi pensieri nei commenti. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ciao e ci vediamo al prossimo video.